Grazie Sabrina, neanche io, neanche io, bene, bene, siamo partiti alla grande, c'è la numero due, allora adesso partiamo con la cena, lo diciamo, ah sono già partiti, bene, allora guarda, faccio al volo la numero due, e poi, esatto, mettiamo qualcosa, ciao numero due, t'ha visto subito, cioè i nostri singoli 10 decimi di vista, come li chiami? Xenia, Xenia, da dove vieni? Da dove vieni? Da Roma, ma cosa fai di vero? Un pub, fantastico!